Ciao da Avsim! Addio Fairplay finanziario, addio Plus Valenze. No, in realtà sembra troppo semplicistico, non è così e non sarà così. Soprattutto non sarà addio al Fairplay finanziario. Si tratta semplicemente di una riforma a cui sta pensando la UEFA seriamente in questo periodo, alla luce della crisi economica post-pandemia, e che quindi dovrebbe vedere la luce entro la fine di questo anno solare, quindi entro la fine del 2021. Che tra l'altro è un anno storico perché siamo proprio a dieci anni dall'introduzione del Fairplay finanziario. Che cos'è, come funziona, quali sono le caratteristiche salienti e verso che cosa si vuole andare. E poi alcune considerazioni su quelle che potrebbero essere le conseguenze pratiche. Che cosa potrebbe cambiare a livello di calcio-mercato e quindi di gestione delle rose e quindi anche di, diciamo, programmazione in generale nelle varie squadre, nei vari club, ovviamente quelli che si affacciano alle competizioni UEFA, quindi i club principali, le squadre più forti, quelle che hanno i giocatori più costosi, quelle che pagano gli stipendi più alti, quelle che hanno i giocatori anche più forti, e quindi quelle di cui si parla tanto a livello di mercato, e cioè dove andrà a giocare Ronaldo, dove andrà a giocare Messi, dove andrà a giocare Mbappé, Holland va veramente alla Real Madrid. Queste sono domande che ci facciamo adesso e che ci sono fatti in tanti anni passati, sempre queste, cioè con i grandi nomi, i grandi giocatori e le grandi squadre, potrebbe cambiare tanto, potrebbe cambiare tanto proprio a livello di calcio-mercato e potrebbe essere molto più difficile, vi anticipo questo e dopo vi spiego perché, vedere grandi nomi trasferirsi in grandi squadre con grande frequenza. Insomma potremmo andare verso una secondare da parte della UEFA, questo mercato asfittico che si è venuto ad instaurare naturalmente a causa della crisi economica in queste ultime due finestre di mercato e quindi dover rinunciare alle grandi campagne di calcio-mercato entusiasmanti, esaltanti, con appunto i grandi nomi per motivi specificamente tecnici, che sono legati appunto a questa ipotetica riforma del fair play finanziario. Tant'ipotetica neppure perché davvero ci si sta lavorando, è stata una dichiarazione insomma univoca, ben chiara, che è stata riportata in particolare da The Guardian con delle anticipazioni, cioè quali dovrebbero essere le novità e le modifiche sul fair play finanziario. Ma prima dobbiamo partire dalle caratteristiche fondamentali, semplificando perché io tra l'altro non sono un economista, ma neanche ci interessa poi dover andare a stilare la contabilità dei club, ci interessa capire quali sono i parametri. Il fair play finanziario punta ad innovare e a migliorare il calcio a tutti i livelli ponendo dei paletti per quanto riguarda la capacità di spesa dei vari club. Per evitare una cosa che è proprio l'estremizzazione, che chi ha tantissimi soldi al di fuori del calcio possa buttare tutti i soldi che vuole dentro il calcio per fare la squadra più forte del mondo senza nessun limite, andando a battere quasi di default tutti gli altri e così sostanzialmente si va a creare un mostro di forza e di potenza economica che poi diventa anche sportiva e tecnica e dall'altra parte tutti quanti che si impoveriscono. Quindi per evitare queste esagerazioni sono stati posti dei limiti di spesa, ma soprattutto dei limiti poi contabili e cioè il cosiddetto break even, quindi il pareggio di bilancio. Cioè non puoi spendere, espandere tutto quello che vuoi perché a un certo punto devi anche bilanciare con i ricavi che sono tra l'altro costi specifici, cioè rilevanti e ricavi rilevanti che sono molto diversi in alcuni casi da quelli che sono i costi e ricavi di un bilancio civilistico. Cioè non è la stessa cosa che andare ad analizzare il bilancio to cure di una società di calcio. Ci sono dei parametri diversi nella UEFA, soprattutto il break even che comporta anche di dover fare che cosa? Le plusvalenze appunto. Per andare a bilanciare i costi con i ricavi spesso i club ricordano appunto alle plusvalenze e talvolta possono avere l'incentivo a vendere un giocatore ancora forte perché magari c'è una squadra che avendo la possibilità di farlo va a spendere, va a proporre un sacco di soldi per quel giocatore consentendo a quella società di fare una plusvalenza importante e magari anche di andare ad acquistare alla stessa cifra un altro giocatore che però andrà a contabilizzare meglio facendo un contratto magari quinquennale che è il limite massimo e quindi andando a spalmare le quote di ammortamento. Qui entriamo nel tecnicismo ma insomma ci sono tanti esempi in questo senso. La Juventus per esempio con magari lo scambio Artur Pjanic o con lo scambio con Danilo e Cancelo ha fatto in effetti anche un'operazione legata alla plusvalenza e all'abbassamento dei costi. Nel caso di Artur Pjanic l'abbassamento dei costi è stato legato allo stipendio più basso di Artur e anche al fatto che può beneficiare del decreto crescita quindi c'è un lordo inferiore mentre per quanto riguarda le quote di ammortamento quelle di Artur sono più alte rispetto a quelle di Pjanic sia per quanto era stato pagato Pjanic 32 sia per quanto è stato pagato adesso e cioè circa 60 mentre mi pare 72 per Artur quindi una cifra superiore pur con una parità sostanzialmente di quote di ammortamento cioè un quinquennale era stato fatto all'inizio a Pjanic e un quinquennale adesso ad Artur ma sto entrando troppo nello specifico e nei tecnicismi vediamo come quindi potrebbe cambiare il fair play finanziario. Tolto il discorso break even cioè probabilmente verrà eliminato questo verrà eliminato il vincolo del pareggio di bilancio per guardare ad altri limiti ad altri paletti con una precisazione non sarà attenuato il fair play finanziario sarà semplicemente modificato nelle sue caratteristiche cioè ci saranno altre richieste ma non è che a un certo punto i club potranno liberarsi a fare tutto quello che gli pare non avendo più limiti sul mercato anzi i limiti sul mercato forse saranno anche più vincolanti e meno aggirabili perché nell'ambito del pareggio di bilancio obbligatorio appunto con le plusvalenze si possono anche fare ecco le cosiddette plusvalenze fittizie o comunque si può andare ad avere un incentivo anche agli scambi ecco in questo mercato asfittico che cosa abbiamo visto? queste cose qui gli scambi il mercato creativo cioè giocatori che vengono scambiati senza una vera e propria senza un cash che poi vengono pagati vicendevolmente è un altro discorso cioè il flusso di cassa è diverso però si vanno a iscrivere a bilancio giocatori che vengono quasi barattati tenendo alta la valutazione di mercato ante covid praticamente e quindi consentendo anche delle plusvalenze importanti nonostante ormai la liquidità scarseggi per tutti quanti questo è appunto un meccanismo che viene incentivato dal pareggio di bilancio perché tu devi andare a fare determinati ricavi caratteristici ricavi rilevanti e quindi se non fai le plusvalenze non ce la fai ad entrare nel limite che ha un margine come sapete cioè nell'ultimo triennio nel triennio precedente devi aver fatto al massimo 30 milioni di passivo questo è il limite altrimenti poi va in corso va incontro a sanzioni che possono arrivare anche fino all'esclusione dalle competizioni europee poi con tante critiche che sono state fatte al percorso finanziario sull'equità di applicazione alcuni club sono stati trattati meglio di altri secondo molti alcuni club dovevano essere sanzionati e non lo sono stati sono stati aggirati dei limiti si pensa per esempio al caso Neymar si pensa per esempio al caso Manchester City discorsi che forse andranno avanti in eterno però nello specifico e questo riguarda veramente tutti i club questo incentivo alla plusvalenza potrebbe venire meno perché se togli il limite del pareggio di bilancio ma guardi a questi due nuovi parametri che sono stati anticipati da The Guardian e cioè il livello degli stipendi e le cifre spese sul mercato allora cambia tutto cioè se non devi superare una certa soglia di stipendi un certo monte ingaggi e se non puoi spendere al di là poi di quanto vai a ricavare con le plusvalenze e con le cessioni oltre una certa soglia allora ogni squadra avrà un limite di spesa un limite di spesa proprio specifico sia per quanto riguarda i cartellini che per quanto riguarda gli stipendi e allora come si fa per evitare di andare incontro ad un blocco sostanziale del mercato e questo è il punto e queste diciamo sono le osservazioni pratiche che possiamo fare probabilmente vedremo dei campioni bloccati nei loro club di appartenenza perché nessuno avrà la capacità di spendere per acquistare il loro cartellino e soprattutto nessuno avrà la capacità di spendere per sostenere il loro stipendio pensiamo ai grandi mostri come Ronaldo e Messi in questo momento già è difficile pensare che qualcuno possa permettersi il loro acquisto con il nuovo fair play finanziario diventerebbe praticamente impossibile e questo non riguarda solo i grandi giocatori già affermati ma anche quelli del futuro o quelli che magari sono più giovani però già hanno una valutazione enorme rischiano veramente di rimanere bloccati nei loro attuali club di appartenenza anche per anni a meno che non si vada a fare una politica specifica appunto di abbassamento del monte in gaggi che deve riguardare anche questi colossi che deve riguardare anche quelli che vincono i palloni d'oro quelli che sono ritenuti più forti al mondo perché se anche loro avranno uno stipendio troppo alto rimarranno vincolati rimarranno non vendibili per le società di appartenenza e quindi anche loro saranno inchiodati incatenati dove giocano in quel momento e non potranno ambire ad andare ad altre squadre esempio di Holland appunto non so quanto prende al Bayern Monaco probabilmente non tantissimo ma ipotizziamo che sia già alto il suo stipendio scusate ma il Bayern Monaco al Borussia Dortmund è stato un lapsus ipotizziamo che prenda già tanto al Borussia Dortmund non può magari il Real Madrid andare a dargli quello stesso stipendio per i limiti nuovi del fair play finanziario e quindi Holland non va al Real Madrid possiamo assistere a questo e quindi per andare ad evitare un blocco sostanziale del mercato causato dal nuovo fair play finanziario che cosa si deve fare? già detto si deve abbassare il monte in gaggi ma deve essere un circolo vizioso che si deve innescare e cioè sostanzialmente credo che si assisterà con questo nuovo fair play finanziario se veramente sarà così ad un abbassamento generalizzato una riduzione generalizzata degli stipendi che a cascata riguarderà ovviamente anche i giocatori meno forti cioè non si potranno più avere queste pretese esorbitanti dalle società ovviamente non sappiamo in questo momento a quale sarà la cifra fissata per questo limite degli stipendi però ragionevolmente parliamo di una cifra un po' più bassa rispetto al monte in gaggi medio delle grandi squadre in questo momento e perché se no di che parliamo se non si va a porre se deve essere posto un limite bisogna porlo ribassando altrimenti il limite non viene non viene percepito perché è già tutto resta tutto sostanzialmente uguale e quindi a parte i campioni bloccati dove sono che può essere un'estremizzazione per quanto riguarda tutto il resto della circolazione dei giocatori potrebbe ad un certo punto forse anche un limite quantitativo e cioè ho finito i soldi da spendere per questa finestra di mercato non posso acquistare più nessuno però d'altra parte se anche gli altri hanno finito i soldi non possono acquistare da te e quindi tu ti trovi magari ad aver sforato il limite del monte in gaggi oppure ad esserci rientrato ma ad avere comunque troppi giocatori quindi sarà veramente importante la programmazione molto importante la programmazione e sapere se veramente un giocatore ti serve forse ci sarà un miglioramento da questo punto di vista non più operazioni fatte tanto per il bilancio quindi le plus valenze fatte per rispettare comunque anche il prefinanziario e quindi non più acquisti solo a scopo finanziario ma solo acquisti e cessioni a scopo tecnico si guarderà di più al dato tecnico cioè questo giocatore mi serve veramente no perché io gli devo dare un totto di milioni vado ad intaccare la quota del monte in gaggi e mi costa anche una certa somma il cartellino quindi se poi non mi serve non solo sono andato a sprecare soldi ma sono andato anche a creare un ingolfamento nella macchina perché poi non è detto che io l'anno prossimo questo giocatore lo posso vendere perché se le altre squadre che possono essere potenzialmente interessate hanno già superato la soglia del monte in gaggi e della spesa sul mercato questo giocatore resta bloccato da me e io che me ne faccio quindi capite andando a porre il ragionamento su quelle che potrebbero essere le implicazioni applicative del nuovo fair play finanziario questo è quello che mi sento di dire un miglioramento un miglioramento importante soprattutto per i tifosi per tutte quelle squadre che in questo momento puntano principalmente al bilancio tra queste sicuramente c'è la Juventus che ha fatto tanti acquisti importanti anche di valore tecnico ma anche tanti troppi acquisti eccessioni quindi tante troppe operazioni entrate in uscita che badavano soltanto alle esigenze di bilancio o prevalentemente quindi a questioni finanziarie così come sarà difficile andare a vedere società allestite squadre allestite con una spesa esorbitante penso in questo momento al Chelsea che però aveva avuto un blocco del mercato o penso al Real Madrid che sono da sempre soprattutto il Real Madrid squadre con tanta spesa anno dopo anno anche perché lì hanno proprio la logica e la concezione che il presidente deve fare un regalo all'anno ai tifosi anche il nuovo presidente infatti adesso ci aspettiamo che cosa farà il nuovo presidente del Barcellona se riuscirà a tenere Messi e se Messi riuscirà a muoversi magari in extremis prima dell'applicazione delle nuove regole sul fair play finanziario e potrebbe essere l'ultima chance e anche per Ronaldo in questo senso possiamo veramente aspettarci paradossalmente un'estate se veramente saranno confermate queste indiscrezioni entro fine anno vorticosa di calciomercato si salvi chi può ci sarà una corsa a cambiare club e a fare grosse spese fino a che sarà possibile farlo paradossalmente nonostante il mercato sfitti con le condizioni non favorevoli e quindi paradossalmente appunto potrebbe questa novità in corso di applicazione innescare un cambiamento in senso opposto prima però di ritornare e di rientrare anzi definitivamente appunto a livelli più lenti di trattative meno operazioni e più difficoltà di fare acquisti e cessioni in proiezione questo è quello a cui assisteremo probabilmente però c'è da aspettare perché siamo ancora a fine marzo 2021 a 10 anni circa dall'introduzione del fair play finanziario modifiche importanti cambiamento dei paletti ma è ancora tutto in fase di evoluzione di ragionamento servirà ovviamente ragionarci tanto perché non è solo una cosa che la UEFA prende ed impone dall'alto ma bisognerà anche dialogare con i club perché poi sono loro che devono essere in grado o meno di rispettare queste regole quindi nei prossimi mesi di questo 2021 forse ne sapremo di più e ci aggiorneremo intanto ditemi la vostra nei commenti su questo argomento probabilmente interessante in attesa degli sviluppi e quindi grazie per l'attenzione like al video se vi è piaciuto e condividetelo con chi è interessato ad un approfondimento sull'argomento iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi appuntamenti ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti i prossimi appuntamenti